il vado a prendere i miei ragazzi si intanto non plaudo ma non è il parcheggio dai dai siiii la incola distrutta oh e va pum faccia come manda all'andata mazza da Facebook siii eeeh quante cazzo mi sento ucciso nooo ecco lanza granata ma vai via lo vedo no 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 Grazie a tutti Ciao a tutti e al prossimo streaming